I senatori a vita italiani hanno preso un'iniziativa inedita lanciando un appello per l'Europa ricordando l'importanza del legame europeo per l'Italia e l'ancoraggio europeo, la condizione per la modernizzazione del paese, per il suo sviluppo, perché possa giocare un ruolo nel mondo insieme agli altri paesi europei in un contesto in cui contano solo gli stati di dimensioni continentali. Il fatto che i senatori a vita sentano il bisogno, la necessità di una simile iniziativa ci fa capire quanto si rischia in Italia con una politica europea che ci isola sempre di più dai nostri partner e che ci mette ai margini del progetto europeo. È un tema centrale in vista delle elezioni europee su cui tutte le persone che hanno a cuore l'Italia, l'Europa e la democrazia devono mobilitarsi.